X-Factor Inghilterra si è fermato di fronte al dolore immenso di Simon Cowell. Due giorni fa, infatti, l'ideatore del celebre talent ha perso la madre Julie, Brett, a 89 anni e insieme alla sua famiglia il produttore musicale ne ha dato un annuncio al mondo attraverso un comunicato pubblicato sul Sun. Oggi la nostra adorata madre Julie è morta, hanno scritto abbiamo il cuore a pezzi e ci mancherà tantissimo, ma ora finalmente riposa in pace. A quanto si apprende, Simon Cowell è distrutto per la morte della madre e si è trincerato dietro un rigoroso silenzio. Un insider vicino al vivo però avrebbe rivelato come sta affrontando questo periodo difficilissimo. Simon, afferma, è assolutamente devastato dalla mancanza della madre. Lui la amava come nessun altro nella sua vita e avevano un legame molto profondo. Ieri a Manchester erano previste le audizioni della nuova edizione del talent, ma i casting sono stati rimandati affinché Cowell potesse riprendersi al meglio.